Caos totale nel centro-destra in regione Lombardia per la riforma della sanità. Dopo la bozza della Lega Nord votata dalla giunta a dicembre, ora anche Forza Italia e il nuovo centro-destra presentano il loro progetto. Il dibattito va avanti da oltre un anno e i tempi ovviamente si allungano. Arrestato un presunto complice della coppia che lo scorso 28 dicembre aggredì con l'acido il giovane Pietro Barbini. Si tratta di un 32enne bancario che avrebbe accompagnato Martina Levato sul luogo dell'aggressione. A casa sua trovati acido muriatico e spray urticante. Comparirebbe anche nei filmati che testimoniano quei drammatici momenti. Un anno fa il tentativo di fuga. Oggi le condanne per sette membri della banda che cercò di fare vade nel gastolano Domenico Cutri davanti al tribunale di Gallarate, dove era stato trasferito per un'udienza. Nell'assalto morì Antonino Cutri, fratello minore del recluso. Lui, Domenico, per il tentativo di fuga a dicembre aveva già patteggiato altri due anni. Poste Italiane razionalizza la sua presenza sul territorio lombardo e da aprile chiude ben 61 uffici postali. Altri 121 apriranno invece solo a giorni alterni. Preoccupazione per i sindacati e per gli utenti, ma l'azienda garantisce che il servizio resterà invariato. E chissà, forse questa è una ragione in più per preoccuparsi. Buonasera, benvenuti a questa edizione del TGN Sera. Partiamo dunque con il caos scoppiato tra ieri e oggi in regione Lombardia perché per quanto riguarda la riforma della sanità, di cui era già stata votata una bozza a fine dicembre in giunta, prima Forza Italia e adesso anche NCD hanno presentato il loro progetto di riforma che in qualche modo cozza con quello presentato dal partito del Presidente Maroni. Andiamo a vedere il servizio. Il centro-destra Lombardo si spacca sulla riforma della sanità. Al Pirellone nelle ultime settimane continuano ad essere presentati progetti di modifica, tutti interni alle forze di maggioranza. Dopo la bozza della Lega Nord e il testo proposto ieri da Forza Italia, ora è la volta del nuovo centro-destra. Lo scontro riguarda soprattutto la governance delle aziende sanitarie locali. Il Vicepresidente Mario Mantovani punta a creare una super-hasl guidata dai vertici dell'assessorato alla sanità. Per la Lega Nord invece serve un modello più decentrato. C'è poi la questione dell'Agenzia del Farmaco, ente caro alla Lega e a Forza Italia, considerato dal Ministro della Sanità Lorenzin di NCD, contrario alle norme nazionali. Dopo gli ultimi sviluppi quindi il testo di riforma della sanità, approvato dalla giunta regionale lo scorso 23 dicembre senza la firma di Mantovani, ritorna quindi in discussione. Come Lega abbiamo fatto una scelta un pochino diversa, un pochino coerente, pur non condividendo totalmente il testo che è andato in giunta, ci siamo riservati di emendare quel testo tenendolo come punto di riferimento. Gli altri hanno preferito presentare un testo alternativo. Non abbiamo preclusione, ma non è questo il tema che ci appassiona. Non riteniamo che sia il problema dell'assessorato unico e dei due assessori, ma quello davvero di rendere la nostra sanità, una sanità ancora più vicina al cittadino, capace di risolvere i tanti problemi che anche in Lombardia abbiamo. La battaglia politica non si ferma, d'altronde la sanità lombarda pesa 17 miliardi e mezzo di euro sul bilancio regionale. Tutte le forze politiche puntano a rivendicare il loro ruolo davanti agli operatori del settore, ai medici, infermieri, dipendenti pubblici e privati. Il Partito Democratico è stato il primo a presentare un progetto di riforma nel corso dell'attuale legislatura, chiedendo trasparenza soprattutto sulla nomina dei manager delle ASL da slegare rispetto alla politica. I democratici sembrano più orientati verso il modello Maroni rispetto a quello presentato da Forza Italia. Sono testi molto differenti fra loro, in particolare l'ultimo che abbiamo visto ieri proveniente dall'assessore Mantovani fa dei pesanti passi indietro rispetto ad alcune aperture della proposta Maroni, in particolare su tre questioni per noi fondamentali, il rapporto pubblico-privato, la questione delle nomine, quindi l'invadenza della politica nella sanità e la questione dell'assessorato unico, vale a dire dell'integrazione tra sanità e sociale. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'indagine in cui si ipotizza l'abuso di ufficio a carico di gnoti per la vicenda delle trascrizioni delle nozze tra coppie omosessuali, questi matrimoni celebrati all'estero e poi trascritti sui registri del comune. Il sindaco, Pisapia, avendo effettuato tali trascrizioni e non avendo ottemperato alla richiesta del prefetto di cancellarle, un paio di settimane fa aveva detto pubblicamente di essere lui l'indagato. In realtà poi era stato smentito dal procuratore Bruti Liberati. L'inchiesta, ricordiamolo, era stata avviata in seguito a un esposto da parte di un'associazione di pensionati che aveva indicato come ipotesi di reato appunto l'abuso d'ufficio, in quanto dopo che lo scorso ottobre il Consiglio Comunale aveva dato il via libera alla trascrizione delle nozze contratte all'estero tra coppie omosessuali, non era stato dato seguito alla richiesta del prefetto Tronca di cancellarla. Richiesta avanzata sulla base di una circolare del Viminale. Arriverà, passiamo a un'altra questione di cui abbiamo parlato molto in queste settimane, arriverà probabilmente dopo l'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione della Scala una decisione sul 1 maggio. Solo dopo il 16 febbraio, quindi, si saprà se il teatro resterà aperto nel giorno di inaugurazione dell'esposizione universale e metterà regolarmente in scena la tour andò di Puccini. La data non potrà essere posticipata di molto poiché i biglietti saranno in vendita dal 19 febbraio. Ancora non ci sono dati ufficiali su quanti dipendenti hanno dato la loro disponibilità a lavorare, come ha chiesto loro in una lettera il sovraintendente Pereira. Da tempo, CISD, WILL e FIALS hanno dato l'ok a lavorare il 1 maggio. Coro e orchestra hanno fatto una raccolta di firme per appoggiare l'apertura del teatro, ma CUB e CGL hanno detto di no, ricordando che il 1 maggio è un diritto indisponibile dei singoli lavoratori, come prevedono sentenze della Cassazione. Tradotto, ciascuno decide per sé e i delegati CGL saranno in piazza per la manifestazione della festa del lavoro. A nulla sono finora serviti gli appelli per mandare in scena la tour andò, compreso quello della segretaria CGL Susanna Camusso. Apriamo adesso una ampia pagina di cronaca, partendo dall'arresto, dal fermo o meglio, di un presunto complice di Martina Levato e Alexander Böttcher, i due arrestati per l'aggressione con acido a Pietro Barbini, avvenuta lo scorso 28 dicembre. Da quanto si è saputo, l'uomo infermato di questa notte si chiama Andrea Magnani, è un amico della coppia e accusato di concorso in lesioni gravissime. Avrebbe infatti accompagnato in auto la ragazza sul luogo dell'aggressione con l'acido e questo risulta in seguito alle indagini condotte dalla polizia. Martina, infatti, sarebbe arrivata Martina Levato, sarebbe arrivata in Giulio Carcano in auto assieme a Magnani, mentre Böttcher sarebbe arrivato a piedi. Dopo l'aggressione Martina sarebbe risalita sull'auto con Magnani e i due sono poi fuggiti a casa del giovane dove la studentessa ha fatto sparire i suoi abiti sporchi di acido. L'udienza di convalida del fermo si terrà domattina davanti al jeep Gennari. Magnani, dopo il fermo avvenuto questa notte alle 2.40, è stato portato a San Vittore, ma il PM ha chiesto che venga trasferito a opera. A casa di Magnani gli investigatori nel corso di una perquisizione hanno trovato acido muriatico e spray urticante. Nel provvedimento di fermo a carico dell'uomo, che ha 32 anni e lavora in banca, viene evidenziato che ha già inquinato le prove e potrebbe farlo ancora, oltre al pericolo di fuga. Magnani infatti è sposato con una donna bielorussa e potrebbe godere di appoggi in quel paese. Passiamo a un altro dei titoli di apertura, restiamo alla cronaca. Hanno patteggiato pene da 3 anni e 6 mesi fino a 4 anni e 6 mesi di reclusione sette membri della banda che il 3 febbraio del scorso anno, esattamente un anno fa, organizzò l'evasione di Domenico Cutri, che stava scontando una condanna all'ergastolo per omicidio nel carcere di Busto Arsizio. Altri tre presunti componenti e fiancheggiatori che non hanno invece presentato istanza di patteggiamento sono stati rinviati a giudizio. In particolare ha patteggiato 4 anni e 6 mesi Cristian Lianza, accusato anche di omicidio colposo per aver colpito inavvertitamente il fratello di Domenico Cutri, Antonino, durante la sparatoria fuori dal tribunale di Gallarate con gli agenti della polizia penitenziaria, sorpresi mentre stravano accompagnando il detenuto a un'udienza. Antonino venne abbandonato dai complici fuori dall'ospedale di Magenta, dove morì nelle ore successive all'evasione. Tra le persone rinviate a giudizio, quelli che non hanno quindi patteggiato, c'è anche Carlotta Di Lauro, la fidanzata di Antonino Cutri. Sono tutti accusati a vario titolo di procurata evasione, possesso e ricettazione di armi da guerra e rapina. Lo scorso 11 dicembre Domenico Cutri aveva già a sua volta patteggiato una pena di due anni di reclusione. Ricordiamo che era stato poi catturato in un appartamento in ristrutturazione a Inveruno. Eccolo qui, lo vediamo, mentre viene poi definitivamente tradotto in carcere. Restiamo in ambito giudiziario. C'è una condanna anche qui a tre anni e tre mesi di carcere per Patrizio Mercadante, ex collaboratore dell'assessore della Giunta Moratti Mariolina Moioli. Mercadante, secondo i giudici, ha pilotato gare d'appalto in cambio di tangenti per una cifra complessiva di 150.000 euro. Dovrà scontare una condanna a tre anni e tre mesi di carcere Patrizio Mercadante, l'ex dirigente del Comune di Milano, stretto collaboratore dell'assessore alle politiche sociali Mariolina Moioli all'epoca della Giunta Moratti. Mercadante è stato ritenuto colpevole dai giudici per aver incassato 150.000 euro di mazzette per la ristrutturazione di una casa a vacanze di Palazzo Marino. L'ex direttore del settore minori e giovani dell'assessorato alla famiglia ha pilotato appalti da oltre 30 milioni di euro a favore dell'imprenditore Dario Zambelli, che lo scorso 15 aprile ha patteggiato la pena di un anno e dieci mesi di reclusione. Mercadante è stato anche interdetto da qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione per due anni. Il giudice della quarta sezione penale ha anche stabilito che all'ex dirigente di Palazzo Marino vengano confiscati beni per 58.000 euro tra quelli già sequestrati. Mercadante dovrà anche risarcire il comune di Milano per una cifra pari a 30.000 euro. Gli avvocati di Palazzo Marino, che si era costituito parte civile al processo, avevano chiesto 800.000 euro di risarcimento. Mercadante ha sempre respinto le accuse, sostenendo di aver fatto risparmiare 12 milioni di euro al comune, grazie al suo intervento. L'ex dirigente è imputato insieme all'ex assessore Moioli e ad altre 12 persone anche nell'ambito dei presunti progetti fantasma dell'assessorato alla famiglia, costati alle casse pubbliche 1.400.000 euro. Secondo l'accusa, questi soldi sarebbero serviti per coprire le spese della campagna elettorale per le amministrative del 2011. Mariolina Moioli deve rispondere per i reati di truffa aggravata, peculato, falso ideologico, finanziamento illecito ai partiti, turbata libertà nel procedimento per la scelta del contraente. Il pubblico ministero Giancarla Serafini ha chiesto il giudizio immediato per Gianluca Gerardo Maggioncalda, il 42enne che lo scorso 19 ottobre ha ucciso la fidanzata Sonia Trimboli, strangolandola nel suo appartamento nel centro di Milano, in via della commenda. Sull'istanza, che consentirebbe così di saltare l'udienza preliminare andando direttamente a dibattimento, si pronuncerà il GIP di Milano. Maggioncalda, che ha confessato il delitto, ha aggredito la compagna, sua coetanea, durante una lite scatenata dalla gelosia, strangolandola con del nastro da pacchi. Poi è uscito di casa e nelle ore successive ha chiamato il padre, chiedendo di controllare se la donna stesse bene. Ricordiamo, dopo che il genitore ha scoperto il cadavere, Maggioncalda è stato rintracciato dalla polizia in piazza Sant'Ambrogio e arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. La vittima, in passato, aveva già denunciato di aver subito una violenta aggressione da parte dell'uomo durante una delle frequenti liti spesso provocate dalla gelosia. Passiamo adesso al lavoro, sciopero e presidio di protesta stamane da parte dei lavoratori di Engineering MO ad Assago. Nonostante gli utili di bilancio, la multinazionale ha annunciato 61 licenziamenti in Italia di cui 21 nella sede di Milano Fiori. Rischiare di perdere il posto anche se l'azienda per cui lavori fa utili da capogiro succede anche questo in Lombardia, precisamente ad Assago. Engineering MO, azienda del gruppo Engineering Ingegneria Informatica, ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 61 dipendenti di cui 21 nella sede di Milano Fiori. In totale sono 200 i lavoratori distribuiti su 4 sedi a livello nazionale. L'azienda a capofila è un colosso da 7.000 dipendenti, una multinazionale con risultati brillanti al di sopra del mercato di riferimento. Nonostante l'utile a bilancio, l'azienda lamenta una contrazione crescente e strutturale del volume delle attività rispetto agli anni precedenti. Per questo ha deciso di tagliare gli organici. Questa mattina i lavoratori hanno protestato due ore di sciopero e presidio davanti alla sede di Assago. Come giustificano questi licenziamenti? C'è veramente una crisi nel lavoro? No, sicuramente questa è un'azienda che non ha crisi perché ha un utile molto alto. Diciamo che loro hanno questa metodologia, sostanzialmente acquisiscono, nel nostro caso hanno preso anche 42 milioni di euro per prenderci e subito dopo hanno iniziato a tagliare i costi sostenendo che il costo del lavoro con noi di Ingegneri MO è troppo alto e quindi non possono vincere i bandi di gara. Ci sono degli utili dichiarati all'ultimo del novembre, 14, di circa 30 e passa milioni di euro. Utile. Il primo incontro tra azienda e sindacati a Roma lo scorso 22 gennaio non ha dato esiti positivi. Il 25 marzo scadranno i 45 giorni previsti dalla legge per trovare un accordo prima che i licenziamenti diventino effettivi. I sindacati chiedono di ricollocare i 61 dipendenti all'interno del gruppo e sono pronti a nuove mobilitazioni. Chiedete che questi 61 lavoratori vengano ricollocati all'interno dell'azienda? Assolutamente perché è possibile farlo, con 7 mila dipendenti si troverà un posto per queste persone. Addio a 61 uffici postali in Lombardia. Le chiusure degli sportelli scatteranno nei prossimi mesi, forse già ad aprile. Nello stesso periodo 121 uffici cominceranno a essere aperti a giorni alterni. E' quanto la Direzione Generale delle Poste ha annunciato in un incontro ai sindacati nel quale sono state discusse le ricadute locali del piano di riorganizzazione nazionale. Nonostante le soppressioni e le aperture a singhiozzo, l'azienda ha assicurato che non ci saranno esuberi tra i lavoratori. Il personale sarà ricollocato in altre sedi, nello stesso ambito territoriale hanno garantito da Poste Italiane. Ma i sindacati sono preoccupati. Per tutti parla Giuseppe Marinaccio, segretario regionale di CISL Poste, il quale spiega che l'azienda ha deciso di chiudere e razionalizzare tutti quegli uffici che ha classificato come non produttivi su un totale di 2100 sportelli aperti in Lombardia. Ad allarmare le organizzazioni dei lavoratori è anche la cronica, ricorda Marinaccio, cronica carenza di personale sia tra i portalettera sia agli sportelli. Ad alimentare i timori dei sindacati è anche disagio e disservizi che questo giro di vite sugli sportelli causerà ai cittadini, soprattutto agli anziani. Tuttavia, la direzione regionale delle Poste ha sottolineato che il piano assicurerà comunque efficienza e capillarità di servizio. Dei 61 uffici postali che chiuderanno, ce ne sono due a Milano Città, in via Cardano e in via Cilea, e 5 in provincia, a Parabiago, Casone, Nerviano, Agrate e Vimercate. 11 invece gli uffici postali che chiuderanno in provincia di Mantova, 3 in quella di Monza, 8 a Brescia e 5 a Bergamo. Via via poi tutte le altre province. Sicuramente una notizia che approfondiremo nei prossimi giorni. Dalle 21, intanto, dalle 21 di sabato alle 21 di domenica prossimi, in occasione di uno sciopero nazionale dei trasporti indetto dall'organizzazione sindacale USB Lavoro Privato, i treni suburbani regionali di Trenord e a lunga percorrenza, così come i collegamenti aeroportuali con Malpensa, potrebbero subire ritardi, variazione di orario o cancellazioni. Poiché è una giornata festiva, non sono previste fasce di garanzia né servizi minimi. Adesso una notizia che è certamente curiosa, certamente desterà clamore, perché sono previste una decina di mucche da latte venerdì in Piazza Affari a Milano, la sede della Borsa, nell'ambito dell'iniziativa di Coldiretti in difesa del settore zootecnico. Nel luogo simbolo della finanza milanese sarà infatti ricostruita una stalla ed è previsto l'arrivo di migliaia di allevatori e rappresentanti delle associazioni. Sono stati invitati numerosi politici e Coldiretti conferma la presenza del presidente di Regione Lombardia Maroni e del sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Andremo a vedere. Apriamo adesso la pagina della Chiesa Ambrosiana. Il cardinale Scola, l'arcivescovo di Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, ha presieduto la celebrazione per la giornata mondiale della vite consacrate. Di fronte a moltissimi religiosi e religiose, ha ricordato la cultura dell'incontro e il grande ruolo dei consacrati per la missione della Chiesa Ambrosiana. Una giornata vissuta nella gioia per portare nel mondo quella cultura dell'incontro, tanto più necessaria oggi in un'epoca segnata da violenze e da scontri. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, gremita di consacrate consacrati, è appunto la diciannovesima giornata mondiale loro dedicata che si festeggia nella celebrazione presieduta dal cardinale Scola e concelebrata da un centinaio di sacerdoti. La bella edizione delle candele, la bella e suggestiva processione, ricordano simbolicamente e liturgicamente tutta la bellezza e la gioia della vita consacrata, come dice nel suo indirizzo di saluto Monsignor Paolo Martinelli. Appare evidente che la gioia che contagia anche noi oggi non è un sentimento vago ed estemporaneo, sottolinea subito in apertura della sua omelia il cardinale, che ricorda quanto sia significativo vivere questa celebrazione all'interno dell'anno della vita consacrata, voluto da Papa Francesco, in occasione del cinquantesimo della promulgazione del decreto Perfecte Caritatis del Concilio Vaticano II. Il nostro cuore è dunque in festa, perché la nostra vita è stata visitata dal Signore che ha redento il suo popolo. Chiario richiamo a Papa Francesco e alla cultura dell'incontro, e il pensiero non può che essere per l'oggi. In un tempo come il nostro, soprattutto nella cultura del nostro occidente opulento del nord del pianeta, Gesù ci abilita così a diventare testimoni di un modo nuovo, rinnovato, luminoso. Per questo è importante, conclude l'arcivescovo rivolgendosi direttamente ai presenti, che viviate la vostra consacrazione inseriti nella chiesa. Profondamente inseriti nella chiesa che è in Milano. E in conclusione, prima del lungo saluto affettuoso finale, il cardinale ricorda l'importante scelta per il 2015 della nostra regione, che offrirà l'olio di San Francesco il 4 ottobre prossimo ad Assisi. Invitati giovani, ragazzi, scandisci. E' bene che questo gesto divenga un pellegrinaggio di popolo. L'ultima notizia del nostro TGN non lo è certamente per importanza, perché di sicuro ne sentiremo parlare e molto nei prossimi giorni. Perché il tema della famiglia, strumentalizzato al massimo livello, dopo il convegno organizzato in regione, è evidentemente destinato ad accendere ancora il clima politico milanese. Questa volta tocca a Forza Nuova cavalcare la difesa della famiglia con un presidio in programma sabato nel centro di Milano. Un'iniziativa che scatena la protesta del Partito Democratico, che chiede al questore di intervenire per proibirne lo svolgimento. Il movimento di estrema destra, di Roberto Fiore, ha infatti in agenda un presidio, in piazza Oberdan, per la difesa della famiglia dell'infanzia, che fa parte della mobilitazione nazionale del partito di destra radicale, contro ogni imposizione delle teorie gender nelle nostre scuole. Immediata, dicevamo, la reazione del PD, non è possibile assistere a impassibili all'emergere a Milano di iniziative omofobe ed oscurantiste, messe in campo dalle forze di estrema destra. Spero che la questura intervenga e ponga il divieto a questa iniziativa. Dicevamo, era l'ultima notizia, adesso rapidamente un po' di pubblicità, il meteo e poi lo sport con Michele Marchetti. Per questa sera col TGN è tutto, grazie. Grazie a tutti.